Come al solito, ma ancora una volta l'Italia in qualche modo dà un'immagine magnifica di sé con questo nostro padiglione che sicuramente è apprezzato e sarà sempre più apprezzato e sarà il più apprezzato, vi auguro, di questo resto di Dubai. All'interno di questa magnifica cornice si inserisce questa mostra che il Ministero del Sviluppo Economico ha voluto, per questo ringrazio naturalmente la direzione che ha lavorato per anni a questo progetto. E come italiani possiamo essere fieri, fieri di portare qui quello che, come dice il titolo della mostra, è il nostro genio, la nostra genialità. Ed è un tratto caratteristico che affonda nella storia, e qui ne abbiamo compiuta dimostrazione, in tempi antichi e in tempi recenti. Qui c'è un pezzo di storia italiana, di storia e di industria italiana, ed è una genialità che in qualche modo è il nostro tratto caratteristico, la capacità di creare, la capacità di fare cose ineguagliate e belle, di applicare il gusto e l'arte anche all'industria.